Con la scomparsa di Zygmunt Bauman scompare un altro dei maestri del Novecento. La sua figura è sicuramente una figura importante, decisiva per lo sguardo che la sociologia, l'antropologia, in qualche modo lo stato di salute dell'Occidente ha mostrato, uno stato di salute che è naturalmente molto delicato, se non fragile. Però la perdita di Zygmunt Bauman va nel senso un po' melanconico, almeno per me, che è cresciuto in un'epoca buona e cattiva, ma comunque è guidata da maestri. Maestri che ti segnavano un po' la via, perché il maestro è questo, non ti dà la soluzione. Ora, bisogna stare attenti, Bauman è un pensatore che ha attraversato il Novecento e lo ha attraversato duramente e dolorosamente. Lo ha attraversato all'epoca della guerra, poi sotto il comunismo, insomma in qualche modo non ha parlato dal di fuori della sua esperienza di vita. Anche questo fa il maestro un maestro. Molti possono essere molto bravi, molto colti, molto intelligenti, ma in realtà chi parla dall'interno della propria esperienza di vita, riuscendo a trasformare questa esperienza di vita in pensieri, in pensieri da comunicare a chi quell'esperienza non l'ha fatta. Ecco, Bauman, a differenza di tanti, è riuscito a fare di quella percezione sulla sua pelle, direi, se mi si permette, del disastro dell'Occidente, a farne pensiero. E questo è importantissimo, è anzi decisivo per la nostra stessa vita collettiva, oltre che individuale. A volte Bauman ha detto delle cose assolutamente innovative, ma in qualche modo con qualche pecca sul piano della verifica scientifica, della sua analisi della società. Purtuttavia, quelle cose che ha detto avevano la capacità, come esattamente tutte le cose che dice un vero maestro, di illuminare i percorsi individuali. Simon Bauman ha ricordato, almeno al grande pubblico, per una parola, la parola liquidità. Lui ha detto, noi viviamo oramai in questa nostra post-modernità, o come la chiamo io, tardo modernità, in una epoca di liquidità. Che cosa vuol dire la liquidità? Lo voglio proprio dire con le sue, quasi le sue parole. Lui diceva, ci sono due modi con cui l'acqua può scendere a valle. La prima è che trova un fiume che la incanala, pur nella sua potenza, pur che quest'acqua porta con sé cose anche pericolose, ma gli argini del fiume riescono a contenerla fino a che arriverà al mare. C'è una seconda ipotesi, è quando quest'acqua non ha l'argine del fiume. Allora si capisce bene che quando l'acqua comincia a arrivare nelle pianure, tracima, deborda, comincia a far diventare quelle pianure delle zone coperte dall'acqua. Allora la categoria della liquidità che poi lui ha applicato a tante cose, l'amore liquido, la vita liquida, eccetera, eccetera, ha due conseguenze, già in Bauman. La prima è che la liquidità diventa pericolosa, la liquidità diventa una fluidità ingovernata quando non ci sono più argini. Non è il problema che ci sia dell'acqua e scenda dalla valle, quindi dalla storia, impetuosamente. Il vero tema è l'assenza, la perdita degli argini, che rende naturalmente tutto indifferente, che rende tutto insomma coperto da queste acque in cui non più si distingue nulla. La perdita delle distinzioni, la perdita delle differenze, la perdita del senso delle differenze. Tant'è vero che oggi quando le differenze si usano alle nostre porte e ne abbiamo una paura terribile? Beh, evidentemente abbiamo perso la capacità di dialogare con le differenze. Tutto sembra uguale, come il territorio coperto, tutto uguale e non più diviso per coltivazioni quando si perdono gli argini del fiume. Quindi questi due elementi sono importanti e Bauman dice anche che in questa condizione ci sono quelle che ha chiamato in un famoso libro vite da scarto. Allora, le vite da scarto sono quelle che non ce la fanno, sono gli sconfitti. Sono quelli che potrebbero, nella metafora che lui ha usato, sono le varie coltivazioni che vengono coperte, vengono trascinate a valle e dunque la diagnosi che Bauman dà di questa condizione dell'Occidente declinante è impietosa, è dura perché è vero che la liquidità senza confini ti dà l'impressione della libertà, ti dà l'impressione che non ci sono più vincoli. La liquidità non ha vincoli, è insomma in qualche cosa che non ha più momenti d'arresto, non momenti d'attesa, tutto fluisce. Improvvisamente ti senti, sì hai l'impressione, direi l'illusione, di essere molto libero. Si pensi soltanto alla vita, Bauman se ne è occupato, alla vita amorosa. Una vita amorosa senza vincoli, senza limiti, una vita amorosa senza orizzonti. È una vita amorosa che solo illusoriamente ti sembra uno spazio di libertà, in realtà è uno spazio di nullità, è uno spazio di realizzazione, perché questo Bauman ne sta alle sue spalle, di profonda critica o di profonda messa in luce dei effetti più quotidiani del nichilismo d'Occidente, della perdita di di qualsiasi limite, di qualsiasi orizzonte, di qualsiasi legame, nella liquidità o nella fluidità i legami si disperdono, nella perdita persino del senso della nostra origine, nel senso in cui l'oblio di quello che ci sta alle spalle, abbiamo le giornate della memoria che raccontano il terrore di quell'epoca, tutto fluisce, allora abbiamo bisogno quasi protettivamente di erigere un giorno per ricordare, che è una bella cosa, ma è anche un sintomo di qualcosa di meno bello, quindi della difficoltà di trattenere un ricordo così fondamentale che Bauman rielabora, c'è un libro che è appena uscito sull'olocausto, lui torna sull'olocausto come un momento di svolta fondamentale del Novecento che declina, quasi come se la potenza della guerra, la potenza della tecnologia che si è espressa nella seconda guerra mondiale fosse, e forse già della prima, fosse il punto di svolta di un Occidente che si sta disperdendo. Io non so se bisogna essere sufficientemente pessimisti o ottimisti, lui credo che ha giocato sui due piani, ha continuato a parlare di queste cose perché credo ha alimentato da sopravvissuto del Novecento, attraverso l'ottimismo della ragione, della volontà, pur mantenendo nei suoi scritti, nelle sue analisi, quella giusta dose di pessimismo della ragione. E credo che tutti noi oggi ancora, ricordandolo e ricordando i suoi contributi nel campo della sociologia, della psicologia collettiva, nel campo della politica, nel campo del destino delle democrazie, dell'idea stessa di democrazia, ci dia un contributo importante e potente. Quando siamo nella logica dell'incertezza, come la chiama Ricœur, il tempo dell'incertezza, dove tutto è un po' incerto, dove la perdita di quelle cose di cui ho detto evidentemente ti lancia in una dimensione di totale incertezza, di incertezza, lo dico non soltanto sul piano globale, sul piano delle grandi decisioni, sul piano della perdita dei grandi ideali, guardiamo alla finestra d'Europa e ci rendiamo subito conto di quello che sto dicendo, ma anche nella vita quotidiana, nella vita di tutti noi, nella vita delle relazioni d'amore, delle relazioni di lavoro, nella vita del rapporto con la nostra identità, insomma delle complicatezze che questa nostra identità che tenta potentemente in qualche modo di restringersi, di ritrovare i confini, ma in realtà in modo quasi illusorio mi permetto di dire una tesi che forse non è condivisa da tutti, che io penso che Trump è l'esempio, il testimone di una sconfitta delle sue idee, è paradossale quello che dico, Trump parla di identità americana, parla di nativismo, parla di quegli slogan che sappiamo, ma in realtà sono quelle cose che non potrà realizzare, perché il mondo della liquidità baomaniana, di quest'acqua che scende dalla montagna ingovernata sarà più potente di lui e di chi crede che attraverso i muri veri e i muri psicologici e i muri ideologici che lui sta tentando di diffondere anche in Europa in qualche modo, l'illusione che si riuscirà a ricostruire gli argini, ecco qui quegli argini di cui baoman ha sentito la dissoluzione, ha sentito in qualche modo la fragilità e la debolezza che hanno animato tutti i suoi scritti, come si fa poi a stare di fronte a questa debolezza, a questa debolezza identitaria di un popolo, dell'Europa. Questa è la grande questione che baoman ci lascia, perché in realtà lui è stato un grande diagnostico, la questione della terapia è più complicata, è quasi come se la terapia di questo grande male, che è il male di un occidente che sta scivolando lentamente in quelle terre della sera, in quelle terre del crepuscolo, la terapia, la soluzione, la soluzione, il medicamento è naturalmente difficile da trovare, perché vorrebbe dire ricostituire gli argini, ricostituire i legami, ricostituire il senso dei limiti, ricostituire il senso dell'orizzonte, cioè da dove andiamo a finire? Cosa diciamo ai nostri ragazzi? È una banalità, ma cosa diciamo? Diciamo studia ragazzo mio che poi avrai successo nella vita e poi lui studia e poi è un disoccupato, perché il successo della vita non viene più così, non viene più attraverso quei percorsi che in qualche modo erano preconfezionati, no no oggi siamo nella dimensione in cui bisogna assumere il rischio, assumere un po' di cinismo, un po' di spudoratezza, un po' di capacità di in qualche modo di giocare con la vita perché ne venga fuori qualche cosa di una vittoria. Ecco, Bauman ha raccontato le condizioni dentro le quali noi oggi siamo collocati e le ha raccontate attraverso parole chiave, quelle che abbiamo detto, attraverso però parole che non sono vane, sono parole incistate dentro la sua storia personale che è la storia del Novecento europeo e dunque credo che lui, come tutti i grandi maestri, non c'è più ma c'è continuamente perché i suoi lavori credo, anche se hanno i loro limiti, anche se non tiene conto che sotto questa liquidità, che sotto sta nascendo un'altra reticolarità, la reticolarità della rete per esempio, che costruisce in qualche modo confini senza costruirli, cioè ci sono tanti dei filosofi, hanno parlato di questa dimensione rizomatica che non è più il confine, non è più l'argine come l'abbiamo conosciuto, è qualche cosa che costruisce legami diversi, ma quali sono quei legami, che caratteristiche hanno quei legami dentro il web, le generazioni 2.0, che caratteristiche? Beh hanno le caratteristiche che Bauman aveva descritto per tutta una società, le caratteristiche di una fluidità, liquidità, perdita d'argine, in qualche modo poi alla fine diciamolo, quando tutto questo avviene e non si pone rimedio, c'è la perdita del senso della vita e quando si perde il senso della vita evidentemente allora sì che non solo il grande occidente va in declino, ma anche il mio piccolo occidente va lentamente a morire.